ottimo allora la lezione 11 come vi ho detto è dedicata ai brevetti e al segreto industriale due argomenti che non necessariamente stanno insieme ho scelto io di trattarle insieme perché in un corso come questo cioè non siamo a un corso che ne so a una facoltà di ingegneria un politecnico in cui mi interessa insistere molto sull'aspetto dei brevetti voi dovete giustamente sapere i principi generali sapere che cosa sono i brevetti ma ci servirà più che altro la lezione per avere quei fondamenti che servono per poi fare un confronto con il mondo della tutela del design che è poi la lezione successiva che è quella che probabilmente interessa di più a degli studenti dell'ISIA c'è una parte sul segreto industriale e dicevo perché non stanno necessariamente insieme sono come abbiamo visto due istituti giuridici separati però a volte perché entrano in gioco insieme perché il segreto industriale come dire è il rovescio della medaglia del brevetto il brevetto vedremo che ci obbliga a pubblicare a pubblicare la nostra invenzione cioè pubblicare il nostro ritrovato tecnico e quindi farlo diventare un'invenzione industriale che poi se appunto brevettata ci permette di sfruttarla in via esclusiva per una durata di un lasso di tempo di vent'anni il segreto è come dire speculare cioè quando ho un'informazione o un'idea conosco un metodo per fare qualcosa che ha di per sé un valore commerciale industriale proprio perché lo tengo segreto allora la legge prevede una serie di cautele per come dire tutelare questa segretezza però come vedete è proprio il contrario perché sono speculari in quel senso che il brevetto nasce il diritto di brevetto nasce nel momento in cui il segreto muore passatemi il termine però diventa invenzione e diventa invenzione tutelata dalla legge cioè da questo brevetto a questa patente che ci viene data nel momento in cui registriamo depositiamo la invenzione e nel momento in cui io la deposito la rendo nota a tutti la pubblico semplicemente ottengo per vent'anni un'esclusiva il segreto è esattamente il contrario del pubblicare cioè è il tener segreto e adesso vi faccio vedere quando entrano in gioco la prima quando entrano i giochi primi quando entra in gioco il secondo l'istituto del segreto iniziamo dai dai brevetti allora iniziamo una prima definizione vedete che non so se avete notato brevetti per invenzione e modelli e per modelli di utilità vi faccio poi capire la differenza che non è poi così così mastodontica abbastanza sottile tra invenzione e modello di utilità però ecco questo è un po il comportamento l'impostazione della nostra della legge italiana una prima definizione come sempre l'ho presa da wikipedia ma si può prendere anche da qualsiasi altra diciamo enciclopedia generalista ci dice che il brevetto o più propriamente brevetto per invenzione è un titolo giuridico in forza del quale in forza del quale al titolare viene conferito un diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione in un territorio e per un periodo ben determinati e che consente di impedire ad altri di produrre vendere utilizzare l'invenzione senza autorizzazione cioè sfruttarla economicamente no quelli che nel diritto d'autore abbiamo chiamato diritti di utilizzazione economica in questo caso sono il diritto di sfruttare l'invenzione sfruttare economicamente l'invenzione per l'invenzione quindi si intende una soluzione nuova ed originale ad un certo problema tecnico non mi sembra abbastanza ovvio cioè non devo aggiungere altro però basterebbe anche un qualsiasi vocabolario di italiano per farvi capire che invenzione non c'entra nulla con la scoperta l'invenzione è qualcosa di nuovo che abbiamo aggiunto alla scienza e alla tecnica la scoperta è qualcosa che esisteva già che la natura ci aveva già fornito e che semplicemente noi abbiamo trovato ok e quindi quando quando si parla di ogni tanto succede quando faccio lezioni nelle università così e ci sono dei ricercatori in ambita in ambito in ambito medico oppure in ambito biologico scienze naturali mi dicono e ma io ho scoperto questa nuova forma che ne so questo nuovo batterio ho scoperto questo è un è un è un mondo diverso da quello dell'invenzione l'invenzione è invece questa roba qua il trovare una soluzione nuova ed originale ad un certo problema tecnico ecco perché come dicevo prima negli studi che fanno consulenza brevettuale nella maggior parte dei casi ci sono più ingegneri che avvocati perché l'attività dello studio di brevetti sta proprio nel confezionare rendere solida da un punto di vista più tecnico che giuridico l'invenzione i requisiti per la brevettabilità vi ricordate che allora nella lezione sul diritto d'autore abbiamo parlato di requisiti che sono sostanzialmente il carattere creativo un unico requisito per avere il diritto d'autore che poi la dottrina giuridica scomposto in originalità e novità per quanto riguarda il marchio abbiamo detto che il requisito principe è la capacità distintiva poi anche lì ci vuole novità liceità abbiamo visto no i vari requisiti nel brevetto la lista è quella probabilmente più lunga perché sono cinque i requisiti per poter ottenere un diritto su un diritto di brevetto su invenzione industriale sono la novità cioè quindi deve essere davvero qualcosa di nuovo che aggiunge qualcosa di nuovo alla scienza e alla tecnica deve esserci attività inventiva quindi non deve essere un semplice no una semplice scoperta che prima che esisteva già ma semplicemente nessuno prima l'aveva scoperta ci deve essere una vera attività di invenzione attività inventiva deve avere un'applicazione industriale una potenziale applicazione industriale quindi terzo requisito importante cioè le semplici idee astratte non sono di per sé passibili di brevetto ma devono essere calate in un contesto industriale un'applicazione industriale e poi deve esserci liceità questo requisito abbiamo visto anche nel brevetto scusate anche nel marchio quell'esempio di quelle di marchi che sono che hanno un richiamo volgare un richiamo violento per cui sono contrari al buon costume all'ordine pubblico via dicendo che quindi non sono considerati registrabili la stessa cosa succede per il brevetto il brevetto deve essere lecito potrò mai brevettare un farmaco per l'eutanasia no per ora nel senso che ad oggi l'eutanasia almeno in buona parte dei paesi è vietata e quindi un farmaco che ha come unica funzione è quella di poter far morire la gente più serenamente però purtroppo che piaccia o meno a seconda di come si guarda dal punto di vista etico o puramente giuridico questa cosa non si può fare posso fare un brevetto che ne so un brevetto per ecco un brevetto per una sostanza stupefacente quindi invece che un farmaco una nuova anfetamina una nuova droga sintetica che fa sballare molto più facilmente e quindi io penso bene di brevettarla chiaramente no perché è comunque una sostanza che entrerebbe in una lista di sostanze vietate dal ministero della salute con effetti stupefacenti quindi sarebbe di per sé illecita vari esempi possiamo farlo anche su quelli tecnologici però questi sono abbastanza classici e poi deve esserci sufficiente descrizione questo è in realtà quando si leggono i requisiti della brevettabilità il quarto il quinto non si vede mai perché quello è come dire è a posteriore cioè se io non ho se io non presento una sufficiente descrizione della mia invenzione l'ufficio brevetti non non accetta la la mia la mia domanda perché appunto non è sufficientemente descritto capite cioè non basta dire ah ho questa questa idea la farei così in buona parte del lavoro degli uffici che vi citavo prima uffici che fanno consulenza brevettuale è proprio basato in ore e ore di lavoro nel scrivere la documentazione che renda solido il brevetto che renda non attaccabile da terzi il brevetto ok quindi la sufficiente descrizione ecco perché in molti casi non è tanto una questione di avvocati ma è più una questione di ingegneri perché l'ingegnere è colui che deve scrivere questa sufficiente descrizione renderla solida per affinché l'ufficio brevetti la colga e affinché non sia poi successivamente resa facilmente attaccabile da parte di altri soggetti che fanno lo stesso tipo che operano lo stesso tipo di settore lo stesso settore vogliono invalidare quell'invenzione quella richiesta di brevetto e qua abbiamo diciamo più o meno le stesse cose che abbiamo detto fin qua con un paragone tra diritto d'autore e brevetto non mi ricordo se forse questo schema l'abbiamo già visto però torna utile per capire no cioè oggetto da tutela in questo caso vedete non è l'opera dell'ingegno come invece nel diritto d'autore ma sono le invenzioni c'è da aggiungere altra roba perché finora io avevo parlato di invenzione industriale in senso generico però nel titolo nella prima parte della mia slide c'era proprio invenzioni e modelli di utilità e c'è un terzo un terzo oggetto di tutela che sono le varietà vegetali e questa è una novità degli anni non più così novità perché dagli anni 90 in poi che si può fare sta cosa perché è dagli anni 90 che si è scoperta la possibilità di manipolare il dna e quindi di creare nuove forme di vita che la natura non prevede i cosiddetti OGM tra l'altro c'è scritto vegetali non a caso perché si potrebbe fare anche su quegli animali si potrebbe fare banalmente diciamo più che banalmente distopicamente si potrebbe fare anche sulle forme di vita umane cioè si potrebbe manipolare il dna per creare un super uomo che fa delle cose che la natura non consente è una questione etica per cui si è scelto di fermarsi alle varietà vegetali ma sulle varietà animali e sulle forme di vita animali probabilmente a livello sperimentale già questa cosa avviene cioè la manipolazione del dna animale il fatto è che non si possa brevettare cioè qua non stiamo dicendo che non si può fare stiamo dicendo che non si può brevettare e quindi oggetto di brevetto ad oggi sono solo le varietà vegetali però è già di per sé una fetta mostruosa del capitalismo occidentale perché se vi dico solamente alcuni cioè pensate a Monsanto sono aziende multinazionali che di lavoro fanno esattamente quello vendono cioè scusate registrano brevetti su nuove forme di vita vegetale cioè una spiga di grano un tipo di grano un tipo di mais che produce una spiga una pannocchia più più densa di semi che richiede meno acqua e che può resistere anche a temperature molto alte rispetto alla sua natura e quindi può essere coltivato anche in zone dell'Asia o dell'Africa in cui hanno temperature più alte meno acqua ecco le sementi vengono vendute ad alto prezzo a caro prezzo perché c'è dietro un brevetto ok l'acquisizione del diritto anche lì è una differenza sostanziale nel diritto autore è un'acquisizione automatica perché il diritto autore si acquisisce con la semplice creazione col brevetto no a differenza anche del marchio perché come vi ho detto il marchio se anche non viene registrato comunque prevede una forma di tutela come marchio di fatto il brevetto no cioè il brevetto per invenzione diventa tale nel momento in cui c'è un deposito presso un deposito che poi diventa ufficialmente e formalmente registrato presso l'ufficio pubblico la pubblica amministrazione che si occupa dei brevetti lo si può fare in sede nazionale come nei marchi sostanzialmente c'è un ufficio brevetti dei marchi nazionale e c'è un ufficio brevetti EUIPO cioè European Patent Office sostanzialmente che si occupa dei brevetti a livello europeo i requisiti l'abbè l'abbiamo già detto qua sono i quattro classici a cui io ho aggiunto poi la sufficiente descrizione li abbiamo visti nella slide precedente titolo originario dei diritti ecco questo è interessante nel diritto autore abbiamo spiegato che in virtù dell'articolo 6 è quasi sempre diritto autore fin dall'inizio nasce nelle mani del autore cioè dell'essere umano della persona fisica che crea l'opera tranne in quei tre casi che abbiamo già citato che sono il software le banche dati e le opere di design proprio quindi in quel caso salvo patto contrario se c'è un rapporto di lavoro dipendente allora il diritto viene assorbito automaticamente dal datore di lavoro e siamo nell'ambito ancora del diritto d'autore nel mondo dei brevetti direi che invece la situazione si sbilancia cioè si ribalta cioè quasi sempre cioè a rigore di logica è colui che deposita cioè visto che il diritto nasce con una con un procedimento amministrativo per registrare è colui che effettua la registrazione che diventa titolare e quindi è quasi è quasi sempre una società che è quasi sempre un ente commerciale che fa questo lavoro perché costa perché fare la registrazione di un brevetto non è tanto un discorso di costo vedete qua sotto ultima riga non è tanto un discorso di costo amministrativo perché si va nell'ordine di poche migliaia di euro 2.000-3.000 euro il deposito di un'invenzione nazionale sto parlando il costo europeo è un po' più alto ma è il discorso della preparazione della documentazione cioè il confezionamento quello che io chiamo fra virgolette confezionamento dell'invenzione della documentazione brevettuale quello a volte può costare migliaia decine di migliaia di euro perché parliamo di studi professionali fatti da ingegneri avvocati iper specializzati e a volte anche traduttori quindi gente che è esperta in traduzioni tecniche quindi non semplici laureati in lingue c'è gente che sa tradurre cose super super tecniche e gente che si fa pagare a parcelle da 300 euro all'ora 400 euro all'ora quindi se dovete preparare una documentazione che è di 150 pagine in tre lingue con tutto lo studio che ci sta dietro capite che i costi possono salire ma si va su decine di migliaia di euro per per la registrazione del brevetto che è esattamente il contrario di quello che succede col copyright col diritto d'autore il costo è sempre zero cioè io non ho un costo per acquisire il diritto d'autore perché si acquisisce automaticamente al massimo ho un costo che però è comunque irrisorio è comunque marginale per avere la prova di data certa dell'esistenza dell'opera prima di altri punto poi ecco quindi questo è davvero uno dei degli elementi chiave che fa sì che a volte cioè quando è nata l'impresa l'industria la cosiddetta industria informatica negli anni 70-80 in realtà nessuno voleva il brevetto delle aziende di informatica gli unici che spingevano per il brevetto erano coloro che costruivano l'hardware e che quindi avevano sufficienti capitali per poter brevettare anche il software ma in realtà le piccole all'epoca che potevamo chiamare le start-up le antessignale di quelle che oggi sono le start-up non le prime aziende di informatica pura che sviluppavano puro codice non avevano tutto questo interesse al brevetto perché il brevetto costava troppo per le loro tasche ed era più comodo era più funzionale avere una tutela di copyright e infatti poi il software è andato a finire più o meno sotto copyright anche se adesso stanno cercando comunque di portare di aggiungere anche la tutela del brevetto l'ultima cosa l'abbiamo saltata ma mi sembra già abbastanza sottointesa la durata è diversa 70 anni dalla morte dell'autore sono un'eternità rispetto ai 20 anni dal deposito perché i 20 anni dal deposito partono da una data molto certa perché nel timbrino che ti rilascia l'ufficio brevetti c'è la data e da lì si contano 20 anni e non ci piove 20 anni a un certo punto scadono e comunque sono un'eternità anche loro perché se ci pensate in un mondo come quello di oggi dove la tecnologia diventa obsoleta molto presto insomma soprattutto le invenzioni di carattere tecnologico 20 anni fa abbastanza sorridere che ci sia ancora un brevetto su una tecnologia di 20 anni fa che nessuno userebbe più davvero e nessuno davvero riesce a sfruttare però tecnicamente il brevetto è rimasto quello quindi spesso si fanno proposte sulla riforma un po' del sistema brevettuale pensare che per certi tipi di invenzioni appunto quelle legate al mondo tecnologico la durata sia più breve tre anni cinque anni cinque anni potrebbe aver senso però per ora si parla di un'unica scadenza di un unico termine che è quello dei venti anni però a un certo punto questi venti anni passano quindi insomma a un certo punto queste invenzioni diventano di pubblico dominio e nell'ambito tecnologico probabilmente ci interessa poco perché quando diventano di pubblico dominio non interessano più a nessuno però ad esempio nel mondo farmaceutico comincia a essere interessante perché vent'anni vuol dire che un farmaco che è stato brevettato nel 2000 e scusate nel 1999 o nel 2000 l'anno prossimo quindi dopo vent'anni comincia a essere replicabile da chiunque diventa di pubblico dominio e quindi quando si parla del farmaco generico quando di colpo un farmaco diventa generico o comunque crolla il suo prezzo vertiginosamente in farmacia se ci fate caso andate a cercare la sua storia è probabile che ciò dipenda che quel calo di prezzo dipenda dal fatto che è scaduto il brevetto quindi vi rendete conto di quanto stavate pagando di proprietà industriale quando prima comprovate quel farmaco un classico esempio è stato il viagra il viagra è scaduto mi sembra nel 2016 perché mi sembra che il primo viagra è stato 95 96 quegli anni di metà degli anni 90 comunque non vorrei dire un'eresia e quindi il brevetto è scaduto nel 2015 o 2016 più o meno quindi non tanto tempo fa però insomma è stato un farmaco rivoluzionario è stato un farmaco che ovviamente ha creato un certo un business immenso e a certo punto per vent'anni se ne sono avvantaggiati è a certo punto scale e da quel momento tutti possono replicarlo chiaro che poi nel frattempo anche quel tipo di medicina si è evoluta e quindi può essere che quella molecola non interessi più davvero perché ne sono state trovate altre più efficienti però c'è stata quella storia che ha creato un po' di curiosità da parte di coloro che normalmente non si occupano di brevetti e si erano accorti che di colpo il farmaco costava molto molto meno grazie a tutti